Benvenuti nella galassia Rattix. Siete pronti per l'avventura? Ecco a voi Jeep Compass. Questo SUV usato è in ottime condizioni e ti offre il meglio di entrambi i mondi. Alimentazione benzina più elettrica con una potenza di 241 cavalli, per prestazioni potenti ed eco-friendly. Immatricolata a febbraio 2022, con soli 23.248 km certificati. Non è solo bella, è anche affidabile. Elegante in rosso con tettuccio nero, questa Jeep è perfetta per chi ama distinguersi. Cambio automatico e trazione integrale ti garantiranno un'esperienza di guida versatile e sicura, sia in città che off-road. Vuoi sapere di più? Visita rattix.com e scopri tutte le offerte.